La tisana, la tisana, ti date? Adesso sapevano, guarda, oh wow. Buongiorno a tutti, oggi una bella novità, bevata di cozze, le cozze, faccio vedere come si puliscono e come si cucinano. Ok, andiamo a lavarle. Ok, la prima cosa, bisogna vedere quelle rotte. Queste rotte qua non sono buone, bisogna scartarle, perché sono già morte. Poi queste qui invece bisogna pulirle. Prima cosa, bisogna togliere questo. Ok, ok. Vado avanti così fino alla fine. Allora adesso che ho tolto il bisso toglieremo il balano e sarebbe questa impurità che ci sono fuori queste escrescenze. Ok. Ok. Il balano si chiama questo. E così fino alla fine, ok? Ok. 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 Poi mettiamo un po' di olio. Ok. 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 allora mettiamo le cozze andiamo a girarle e andiamo a mettere il coperchio li teniamo sul fuoco per circa 10-12 minuti e dovrebbe essere il quanto basta le mie cozze sono pronte adesso tagliamo il limone il limone biologico naturalmente abbiamo già messo il prezzemolo e per a belly made abbiamo messo delle foglie di finocchetto ok adesso li andiamo adesso li prendiamo e li mettiamo nel piatto allora andiamo a mettere il limone e come finale andiamo ad assaggiare ottimo si fa mangiare cercate di farle anche voi ha un costo abbastanza minimo e lo possono mangiare tutti e la classe di mangiare anch'io anche te? si va bene ok spero che mi sia piaciuto il mio piatto al prossimo video ciao ragazzi un bel piatto bello presentabile leggero e buono roba di mare fa sempre bene quindi mangiate a bontà ciao 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 ciao